Ambasciatore, una visita Lampo in Abruzzo, perché? Perché noi abbiamo sempre grande curiosità, la regione di Abruzzo, così noi siamo venuti qua molto volentieri per incontrare i nostri amici italiani. Il maestro Ferrante, avete visitato l'azienda, poi c'è il senatore Razzi, faranno parte di una delegazione che nel mese di agosto poi si recherà a Pyongyang, in Corea del Nord. Sì, veramente, sono molto felice che qua in Abruzzo siamo mezzo fra i nostri amici italiani che fra poco andranno in Corea, nel nostro paese. Avremo la fortuna anche noi di far parte della spedizione e testimonieremo poi quello che c'è in Corea del Nord e a Pyongyang. È una grande apertura da parte vostra? Sì, per noi è anche una grande opportunità per far vedere la nostra realtà, anche che cosa fanno in questo momento il popolo coreano. E anche l'incontro con delle aziende importanti, come possono essere quella del maestro Ferrante, significano molto per il suo paese e per i rapporti tra la Corea del Nord e l'Italia? Sì, noi adesso stiamo preparando questo incontro per la visita nel nostro paese, il maestro Ferrante, anche altri imprenditori italiani. Quanto è suo amico Razzi? Molto, molto. Sì, non posso esprimere il mio spirito. No, non posso esprimere.